E adesso il processo per la morte di Veronica Locatelli, precipitata nel 2008 dai bastioni del Forte Belvedere a Firenze, parlano le parti civili che mettono sotto accusa la mancata messa in sicurezza del Forte. Ci racconta tutto Giulia Baldi. Luce accesa o luce spenta, la sera del 16 luglio 2008 al Forte Belvedere di Firenze non si vedeva nulla. Al processo per la morte di Veronica Locatelli parlano le parti civili e puntano il dito contro il sistema di sicurezza del Forte, sottolineando l'assoluta carenza del sistema di illuminazione e non solo. Soprattutto a questa insidia costituita dall'estrema vicinanza tra il terrapieno e il parapetto, che permetteva a chiunque con un semplice passo di trovarsi nel vuoto. Veronica, quel tragico passo, lo fece la sera del suo 37esimo compleanno. Secondo le parti civili, il Comune di Firenze fu sordo ai ripetuti e gravi segnali delle carenze del sistema di sicurezza del Forte. Nel 2003 precipitarono e morirono dei cagnolini. Il 3 settembre 2006 la tragica caduta dello studente romano Luca Raso. Infine Veronica, senza che nulla fosse fatto. Non abbiamo avuto mai risposte concrete al problema del Forte. C'è stato soltanto il forte interesse a tenere aperti il Forte a tutti i costi, anche a scapito poi delle vite di due giovani. E questo è davvero drammatico. Ci offre uno spaccato sconcertante dell'amministrazione. Imputati, tutti per omicidio colposo, l'ex sindaco Leonardo Domenici, l'ex capo della Direzione Cultura del Comune Giuseppe Gerpelli, il responsabile della sicurezza della struttura Ulderico Frusi, la presidente della cooperativa che gestiva il Forte per l'estate fiorentina Susanna Bianchi e due dipendenti della cooperativa. Dopo le parti civili sono iniziate le arringhe delle difese degli imputati. Grazie a tutti.